Siamo iniziati per qualcosa di speciale. Non dormo molto, ho immagini di avalanche. Per quanto riguarda tutto, se si non si è un'helicoptero che vi incontrere in questo periodo di me. Non abbiamo le droit a l'erreur. Tutti possono succedere, tutto possono cambiare in un momento. Questo era un territorio veramente unico perlado per me. Consequenze sono grandi. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info